Buonasera a tutti, siamo qua nella splendida cornice del Casino di Sanremo, nella sala privata, insieme a Michele Breccione, Presidente territoriale della CNA. Questa sera ci sarà una serata di solidarietà, appunto, che si chiama La Solidarietà è di moda. Ecco, Presidente, ci spieghi un po' il significato di questa sera. Buonasera, la serata che verrà svolta questa sera è una serata di solidarietà dedicata alle donne del Congo, perché CNA quotidianamente parla di contabilità, industria punto zero, di linea di credito, di tutte le problematiche del lavoro. Però questa sera ha deciso di dedicare anche un discorso per la solidarietà per gli altri paesi del mondo. Grazie. Grazie mille.